Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. A poche ore della diretta nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip 6, succede l'imprevedibile questo pomeriggio. Pare che alcuni brand, alcuni sponsor che in tutti questi mesi hanno fatto compagnia nella casa del Grande Fratello siano completamente scomparsi questo pomeriggio. A dirla tutta pare abbiano abbandonato la casa. Ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Tutto inizia questo pomeriggio. Il Grande Fratello chiama i conquilini a gruppi, quindi gruppi di maschi e gruppi di femmine. Entrambi sono andati in confessionale per una comunicazione urgente e importante. Appena usciti hanno deciso di togliere tutti i brand e portarli in magazzino. Ma perché? Che cosa è accaduto? Pare che il vero motivo sia proprio a Katia Ricciarelli. Il web in queste ultime ore sta portando avanti una battaglia proprio contro la cantante lirica Katia Ricciarelli per delle frasi sestisse che lei ha pronunciato nella casa del Grande Fratello dove ognuno si è tappato le orecchie e hanno fatto finta di non sentire ma non solo, anche con degli atteggiamenti che la cantante in questi ultimi giorni ha avuto proprio nei confronti di Manuel Bortuzzo dovuto proprio alla sua disabilità. E pare che proprio questa contestazione abbia convinto alcuni sponsor ad abbandonare la casa del Grande Fratello togliendone quindi la loro pubblicità. Chiara però, vedendo portare via questa roba e ignara di tutto si è detta contenta che almeno un succo di frutta importante non l'hanno tolto dalla casa. Che cosa accadrà? Ne parlerà Alfonso Signorini questa sera in diretta? Lo scopriremo presto. Quindi voi continuate a seguirmi se vi va come sempre vi invito a lasciarmi un like e iscrivetevi al mio canale perché solo così non vi perderete questo ma nessun altro prossimo video.